Siamo qui al campus universitario con Federico Greco. Per il film c'era una volta, un film sulla sanità pubblica. Perché un film sulla sanità pubblica? Beh, perché mi sembra evidente che dall'analisi dei fatti, dalla fotografia della realtà e dalle dichiarazioni degli ultimi settimane soprattutto è morta. È morta. È nata nel 78 come la sanità universale, gratuita per tutti e soprattutto per superare il problema delle mutue, cioè sanità soltanto per i professionisti e quindi solo privata e adesso sta tornando ad essere quella prima del 78. E mi sembra la cosa più urgente da fare, cioè se c'è una battaglia d'avanguardia da fare in questo momento, che tra l'altro non può che convincere tutti perché di sanità mancata si muore, mi sembra che sia proprio la sanità pubblica. Grazie.